appena tornati rendetevi conto già fatto una macchinata delle lenzuola e poi qui voglio le cosine e la bustina da lavare a portare in alto a parte questa bustina di cose da lavare ho la lavatrice già piena di una lavatrice questa è una coperta da lavare e tutto il cestello pieno di cose da lavare cioè praticamente tre giorni e mezzo e guardate qua cosa c'è avrò ancora oltre alle lenzuola altre due lavatrici quasi 30 da fare e vabbè adesso ho già fatto la macchinata delle lenzuola e domenica pomeriggio ormai sono le 5 le ho stese spero che stasera riesco a raccogliere le asciutte nel frattempo stasera attaccherò quella lavatrice lì e domani mattina farò queste sperando che domani ci sia il sole se no sono veramente veramente rovinata seconda mattina seconda la macchinata della delle cose da lavare dopo la nostra gita adesso stenderò questa macchinata ne ho già attaccato un'altra e dopo andrò a pulire il camper la lavatrice già sta andando bene proseguiamo terza lavatrice sembra che siamo stati via venti giorni invece siamo stati io solo tre giorni e mezzo c'è aria e quindi sicuramente si asciugheranno in breve tempo anche se la giornata è molto molto fredda andiamo a fare la pulizia del camper perché poi fino ad agosto non lo utilizzeremo più e quindi vi vado a dare una bella rinfrescata prima cosa pulisca il frigorifero puliamo appunto il frigorifero non è sporco perché ovviamente abbiamo appoggiato poche cose siamo stati solo tre giorni più proprio giusto una rinfrescata adesso la stessa cosa che fate faccio quando sono in casa con il frigo di casa mettere lo scottex lo vado a mettere anche nel frigo del camper allora allora Grazie. Grazie. Il gas non l'abbiamo utilizzato. Il gas non l'abbiamo utilizzato. Il gas non l'abbiamo. Il gas non l'abbiamo utilizzato. 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 Anche la pulizia camper per oggi è stata fatta. Camperino tutto bello pulito. Anche il bagnetto tutto bello pulito profumato. Il gas non l'abbiamo utilizzato. Il gas non l'abbiamo utilizzato. Il gas non l'abbiamo utilizzato. Il gas non l'abbiamo utilizzato.